ciao a tutti ragazzi nuovo video sempre da cairns sto andando al porto perché ho un'uscita con la barca per fare snorkeling visto che mi è piaciuto la prima volta che l'ho fatto nel sundays l'ho deciso di rifarlo e quindi sto andando verso il punto di partenza ok ragazzi come potete vedere io sto indossando un giubbotto di salvataggio questo perché il mare era particolarmente agitato quel giorno c'era anche molto vento e quindi anche per questo le riprese che vedrete sono un pochino mosse in questo primo punto per lo snorkeling non ci sono delle immagini particolarmente degne di nota perché comunque sia era un punto più indicato per il diving quindi le immersioni a cui si sono dedicati parte del gruppo di cui facevo parte e quindi non vedrete delle immagini particolarmente belle ciao 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 in questa parte invece il secondo punto per lo snorkeling invece sono stata molto molto contenta rispetto soprattutto al primo punto perché comunque sia il fondale era un punto molto particolare il fondale era molto basso l'acqua era molto chiara e quindi sono riuscita ad ottenere delle immagini molto molto realistiche anche senza la color correction siamo andati in questo secondo punto dalla barca fino a un isolotto che vedrete tra poco un semplice isolotto di sabbia senza niente di particolare e poi siamo tornati indietro alla prossima ciao ciao io spero che questo video vi sia piaciuto il prossimo sarà un altro sempre da cairns e dai dintorni di cairns spero che vogliate lasciarmi un like e magari anche condividere questo video se avete qualche curiosità potete lasciarmi un commento qui sotto e vi ricordo anche che in descrizione trovate i link a tutti i miei social per seguire le mie avventure in diretta visto che comunque sia c'è un po di differenza tra quello che state vedendo in video e quello che faccio io nella vita reale di tutti i giorni io vi saluto e vi dico have a nice life